Musica Ma... Si ho visto che si è chiusa nel momento Ok Per questa missione di fare casino Chi è meglio di loro due da scegliere Lo so, lo so Voi siete dei compagni storici per me Ma loro vengono ancora prima di voi Sincero Mi fido assolutamente di voi È per questo che vi sceglierò per la missione finale Voi due andate con me a fare casino Sono d'accordo anch'io Squadra J accetta questa selezione Squadra Va bene Ritorniamo nella simulazione Madonna guardaci Uscito da Agent of Mayhem Oh la madonna Sono tutti i miei alleati ora Vabbè questo sicuramente Oh non vedo Tranquilla Finchè c'è da fare casino Ci pensiamo noi Aspetta che... Vi congelo tutti No va bene Vi uccido solamente con il minigun È divertente o quale Non vedo C'è troppa luce Oh scusami Allora aspetta C'è qualcuno che vuole Venire in squadra con me Oh don't bitch Don't bitch Don't bitch Spacco la faccia Se ci riprovi Quadrato io dico Ecco fatto Io mi ricordo che però Mi possono uccidere anche senza fare sta roba Vai mi fido allora Eh beh certo Questa volta i Vice King Sono con il loro legittimo re Madonna mia sto filtro Quanto mi dà fastidio la vista No credo che usciranno i Ronin Aspetta Morite tutti con i fulminati Stronzi Merda stavo sparando al mio portale Non vedo Dov'è? Eccolo Non c'è più un lufo Tranquillo Scusami Ah eccolo dov'era Quello scudo Minchia meno male che il nostro portale è ancora vivo Appena Get Ci abbandonerà Dovremmo prendere qualcuno in squadra Oh la granata Ma io lo aspetta Oh scusami Usiamo questo e continuiamo a usare il minigun È ancora viva? No poveraccia è morta Dispiace Vai via 30 secondi Forza No 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 Un solo portale Posso accettare Vai via tu Io mi ricordo che quello si può uccidere anche senza fare sta sequenza di tasti Oh la granata E' un UFO nel cielo Eh la fa culo L'ho sbagliato un tasto per una volta Ah è esploso lo stesso e sono usciti a Ronin Qualcuno vuole venire con me? Qualcuno vuole venire con me? Qualcuno vuole venire con me? No Cioè Eh Quello? No Dovessi credo che voglio fare più diuousine? Spero's no Non penso che non Se ne avvicinde Pregnare la ultima frase e te ne aggiungere un po' di limba quando ti dà Ah benissimo grazie Molto rassicurante, Kinsey The dogs of war Ah, santo cielo, questa sequenza finale Guarda come scappano tutti velocissimi Devo salire fin là sopra E l'unico modo è saltare da un palazzo all'altro Eccoci qua Tranquillo Che ora ci arrivi Beccati questo, stronzo Allora, aspetta, aspetta, aspetta Qualcuno con me? No? Minchia, due minuti Com'è che siamo partiti Da un minuto A due Ok, morto per il fulmine Ecco qua Tu dicevo Muoricci Ecco qua Va bene, non ti preoccupare Avrai anche distrutto i miei superpoteri Ma io sono ancora superforte Beccati qua Vieni con me Addio Devo fare 250 uccisioni Quindi Più alieni escono Più mi diverto Forza Un altro minuto Ma nessuno viene ad aiutarmi? Posso chiamare qualcuno al telefono? Così giusto per No? Peccato Allora mi prendo i soldi 64.000 Beh, mica male Dai Ancora 50 secondi Eccolo che arriva Ecco fatto Speravi tu di prenderci Il portale però Sta morendo Piano piano Ora arriverà un guardiano Ecco qua Morti 20 secondi Ehi Tu con quel lupo Stai buono 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ya Raggiungi la salvezza Eccoci qua Eccoci qua Ah Ottimo Ah dai Speravo lo distruggesse Go Paul Fuggi dalla simulazione Tranquilla Siamo solo 400 metri di distanza Per fortuna che siamo così vicini Penso se eravamo più lontani Addio Maledetta simulazione Questo è il mio ultimo saluto E tu sei stato il mio ultimo cadavere qua dentro Merda Ti prego Ti prego Ti prego Se la possiamo ancora fare Dai Passa Da quel lato Chiuse anche questa Vero? No no Sì E' un'altra E' un'altra Poi continui a muovere Guarda la porta 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 Ce la possiamo ancora fare Presidente Non si arrenda proprio ora Non è mai troppo tardi Per la salvezza Dai 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 Eccoci Gat Dancing And Shake Shondi Sextape Oh no Matt Millen Nightblade Slash Pig Shondi Chapter 1 Deal The Welding Dinosaur Continua la partita Centro 1 Dio mio Dio mio Dio mio Grazie a tutti.